Incastonato tra monti e boschi selvaggi, il lago d'Idro si trova al confine tra la Lombardia ed il Trentino ed è un autentico gioiello, uno specchio lacustre dove la montagna incontra un turismo sostenibile e rispettoso. Il lago d'Idro è un lago di origine glaciale, lungo circa 11 chilometri, raggiunge una profondità massima di 122 metri ed è il più alto lago Lombardo, si trova a 368 metri sul livello del mare. È anche uno scrigno di biodiversità perché ha un straordinario numero di specie ed esemplari di uccelli e di altri animali, nonché vegetali. Le sponde del lago d'Idro rappresentano anche il limite naturale della valle del fiume Chiese e sono un luogo da cui sono passati i popoli, eserciti e culture che hanno lasciato sia al Trentino che alla Lombardia fortificazioni, castelli, borghi, luoghi di grande rilevanza storica ed artistica che oggi sono visitabili. Le acque del lago sono interamente balneabili ed è un lago molto amato da turisti stranieri, in particolare olandesi che dagli anni 60 del Novecento lo frequentano per praticarvi diversi sport d'acqua. Dicevamo che sul lago si affacciano luoghi interessanti e importanti dal punto di vista storico-artistico, anzitutto poco lontano dal lago c'è il centro di Bagolino che è uno dei borghi più belli d'Italia, noto soprattutto per il Carnevale, una tradizione importante che affonda nei secoli passati la propria origine ma che si rinnova ogni anno come luogo di identità collettiva per la comunità bagossa. Bagolino è stato un centro molto importante durante il periodo della dominazione della Serenissima Repubblica di Venezia, in particolare per questo suo essere a cavallo tra il Trentino, la Lombardia, tra le valli del Bresciano, la Valle Sabbia ovviamente, ma anche la Valle Trompia, la stessa Valle Camonica attraverso il passaggio di Crocedomini. Bagolino ha sviluppato un'economia fiorente durante il periodo della Serenissima, in particolare grazie alla lavorazione dei metalli che venivano ricavati dalle miniere della Valle Trompia e poi è noto per la produzione casearia. Dal punto di vista storico-artistico ricordo solamente la bellissima chiesa di San Giorgio Martire, la terza per grandezza nella provincia di Brescia, testimonianza visibile, plastica dell'importanza di Bagolino nel passato. Qui ci sono opere molto belle, la pala d'altare di Andrea Celesti, ma addirittura due tele attribuite alla bottega di Tiziano e di Tintoretto. Tra il Lago d'Idro e Bagolino si trova anche un monumento che ci ricorda una pagina fondamentale del nostro risorgimento. Brescia è ricordata come la Leonessa d'Italia, ma per il suo contributo dato durante le dieci giornate del 1849, ma ricordiamo anche che in territorio bresciano si svolse la battaglia di San Martino a Desenzano durante la seconda guerra di indipendenza, mentre qui sul Lago d'Idro si è svolto un episodio fondamentale della terza guerra di indipendenza, ricordato proprio dal monumento con cui chiudo questa chiacchierata dedicata al Lago d'Idro, il Sacrario Militare di Montesuello, che venne eretto tra il 1883 e il 1885 da un comitato di ex patriotti bresciani del Risorgimento, a ricordo dei caduti della battaglia di Montesuello del 3 luglio 1866 contro gli austriaci. Il progetto del monumento fu affidato all'architetto Armanno Pagnoni e oggi il monumento è arricchito da una cancellata che fu donata nel 1907 dalla provincia di Brescia in occasione della commemorazione della nascita di Giuseppe Garibaldi, che fu appunto protagonista di questa battaglia del 1866, e un busto marmoreo di Garibaldi situato all'interno del monumento e opera dello scultore bresciano Pietro Faitini.